Ci fu un'idea di mettere insieme un gruppo di persone straordinarie per vedere se potevamo diventare qualcosa di più così quando sarebbe servito avremmo combattuto battaglie per loro impossibili col tempo scoprirete cosa vuol dire perdere essere profondamente nel giusto ma nonostante ciò fallire lo temi lo eviti il destino arriva comunque evacuate la città impegnate tutte le difese e procurate a quest'uomo uno scudo quando tieni in equilibrio l'universo non pensi al divertimento ma questo riesce a farmi sorridere ma voi che diavolo siete? non pensi a farmi sorridere